È stato un momento per me importante per dare minutaggio a tanti giocatori e nello stesso tempo siamo riusciti a passare il turno ed è quello che volevamo anche un po' soffrendo nel finale ma mi aspettavo il fatto che la squadra potesse callare nel finale non l'abbiamo chiusa prima la partita mentre a Roma andremo cercando di dare continuità anche di prestazione, di atteggiamento questo per me è la cosa più importante poi avendo gli atteggiamenti giusti e correndo più degli altri perché per poter competere con la Roma bisogna correre più di loro magari porteremo a casa un risultato positivo Hanno grande qualità nel palleggio, la squadra che ha maggiore possesso palla ha maggiore qualità nei passaggi perché ne sbaglia pochissimi sa dimostrare che ha in mezzo al campo e davanti ma anche dietro dei giocatori abili nel palleggio noi dobbiamo essere bravi a cercare di interrompere prima possibile il loro palleggio e non abbassarci tantissimo Loro danno meno punti di riferimento specialmente quando giocano con Totti centravanti che esce molto dalla linea di difensori e va a cercare palla anche basso a volte sembra farci quasi il regista basso perché ha delle qualità importanti danno meno punti di riferimento rispetto a noi come ho detto prima hanno una grandissima qualità di palleggio grandi alternative in mezzo al campo come giocatori Potrebbe anche far gol se noi poi facciamo risultato e portiamo a casa un risultato importante ma al di là della battuta Francesco è un giocatore straordinario perché non gli serve per rimanere straordinario il gol contro di noi Ci possono pensare ma è un altro campionato, noi siamo un'altra squadra e loro anche nonostante sono sempre lì davanti hanno altre ambizioni hanno anche la Champions League per quello un po' le carte in tavola sono cambiate è ovvio che non ci prenderanno sicuramente ma sono convinto sotto gamba e quindi non ci prenderanno sicuramente ma sono un'altra squadra e quindi non ci prenderanno sicuramente ma sono un'altra squadra